Ale, 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 Milano, ale, forza lotta, vincerai, non ti nasceremo mai. Questo è il coro con cui vi saluta. Il derby è di nuovo rosso-nero. Il derby è nostro. Dopo, contro tutti, contro tutto e contro tutti. Contro un arbitraggio indegno. Contro una telecronaca indegna. Perché Caressa ha fatto peggio di quanto fa la telecronaca di Pes, che è un'immondizia totale. Ha fatto letteralmente schifo. L'arbitraggio è stata una vergogna. Una vergogna. Perché non mi venissero a dire gli indenisti che l'arbitro Mariani ha arbitrato in favore del Milan perché diventa una bestia. Perché Mariani ha fatto letteralmente schifo. Nel primo tempo gli unici ammoniti sono stati Kessy e Kier. Quando Vidal, l'ammunizione di Kolarov per farlo sul rigore su Ibrahimovic. L'entrata killer di Vidal su Teo Hernandez. Una quantità industriale di falli. Un massacro. Uno schifo di arbitraggio. Veramente. Quindi è ancora più bello che Milano torna a essere rosso-nero. Il derby torna a essere rosso-nero. Oggi hanno giocato bene tutti. Ha sofferto un po' la difesa perché Romagnoli tornava dopo un periodo di infortunio. Kier ha giocato alla grande. Frank ha cancellato Barella. Benassero un partitone. Ha fatto una grande partita che sale Makers. Bene Giananoglu. Bene Aleao anche se qualche solito passaggio a vuoto. Benissimo. Zio. Zlatan. Zio. Vado al massimo. Vado a gonfievere. Il Super Saiyan. La bestialità. La bestialità. Di zio che voleva portarsi il pallone a casa. E ci è mancato poco. Ci è mancato poco quella foto che ha fatto. Asiyu col pallone in braccio. Oggi è tornato in Milan. Perché da una grande classifica derivano grandi responsabilità. Ribadisco ancora. Perché adesso. Finalmente si sono accorti del Milan. Perché era quasi una vergogna. Quando il Milan ha fatto il più bel lockdown. Il più bel campionato. Nel girone di ritorno da quando si è ripreso a giocare. Lo dicevano tutti come se fosse uno scandalo. Come se fosse uno schifo. Come se fosse una vergogna. Invece il Milan non perde davanti i risultati utili. Ha preso solo un gol. Mister 12 milioni che ha fatto stalla tutto il primo tempo. Ed è stato ammonito soltanto al secondo. Quando ha fatto schifo tutta la partita a protestare. Mister 12 milioni. È una difesa con la Brodo. Che prende gol ovunque. Che è stata scherzata da Ribéry. È stata scherzata da Ibra. Da gente con i 40 anni. Da fenomeni. Però pur sempre di 40 anni. Cioè qualcuno con 12 milioni. C'ha qualche problema. Ericsson che vomita schifo. La difesa un gol a Brodo. Lukaku dipendenza. Solo Lautaro. Il resto non si gioca. Perché noi abbiamo giocato a palloni i primi 30 minuti. E li abbiamo schiattati. E se continuavamo a fare qualche passaggio in più. Li prendevamo a pallate di gol. Il gioco che non c'è. Io godo come un riccio. A vedere la crisi Inter. Che comincia da oggi. Ed è una polveriera. Come ha detto l'avvocato Nitti. Ho fatto una live. Che caricherò nelle prossime ore. L'avvocato Nitti. Ospite di Mr. Blogger Valeriani. Un ospite assoluto di Milano e L'O. Sul mio piccolo canale. Che vuole diventare grande. Ho la vibe con i milanisti del web. E l'avvocato Milano Nitti. E il tifoso canadese Viola. Direttamente dal Canada. Che l'ho fatta direttamente post partita. La caricherò a breve. Domani. O quando uscirà. Quindi oggi grande partita. Siamo primi in classifica. Salutate la capolista. Salutate la capolista. Oggi cari milanisti. Da oggi. Da domani. Dovete festeggiare. Dovete bombardare i social. Dobbiamo godere ogni minuto. Ogni attimo. Prima in classifica. Perché noi. Il tifoso più disgustato. Negli ultimi anni. Il tifoso milanista. Quello che si merita più di tutti. Di essere primi in classifica. Per tutta l'immondizia. Che ha visto negli anni passati. Quindi oggi spurgate. Godete. Festeggiate. Ponete sui social. Fate tutto quello che c'è da fare. Ma non perché diventiamo populisti. Non siamo più milanisti. Ma dobbiamo festeggiare. Ma non per qualche cosa di speciale. Dobbiamo festeggiare. Perché torniamo a sentire aria di Milan. Aria da primo posto. Aria da essere protagonisti. A noi serve. Serve entusiasmo. Per questo dobbiamo festeggiare. Non perché. Per fare i fichi. Per fare. Ma per essere finalmente felici. Perché ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. Questo primo posto. Questo derby. Contro tutti. E contro tutto. Ribadisco. Contro l'arbitraggio vergognoso di Mariani. Contro lo schifo di Telecronaca. Che abbiamo visto. In diretta nazionale. Quindi. Ce lo dobbiamo veramente godere. Questo derby. Veramente. Questo momento. Godiamacelo. Perché veramente. Noi ce lo meritiamo. Più di qualunque altro tifoso. Sulla faccia della terra. Perché se non c'è un tifoso. Che è disgustato. Da quello che ha visto. Negli ultimi dieci anni. E non solo. Da Cagliani. Da quell'immondizia in voi. Questo primo posto. Ce lo dobbiamo godere. A tutta forza. Quindi godiamocelo. Domani. Meraviglia Paggelle. Giovedì. Facciamo altre live. Fate crescere. Anche Mr. Blogger Valeriani. Fate crescere. Anche Mr. Blogger Valeriani. Perché la live. Che vedete. Con Emiliano Nitti. Emiliano Nitti. Non viene da nessuno. Viene soltanto. Da Mr. Blogger Valeriani. Con cui ha un rapporto. Di sincera e comprovata amicizia. Anche ci stimiamo a vicenda. Quindi apprezzate il lavoro di chi si sbatte. Per diventare youtuber come gli altri. Meraviglia questo derby. Meraviglia questo primo posto. Meraviglia questo periodo. Ribadisco. Godiamocelo il più possibile. Ma non per farci gli splendidi. Per noi. Per noi. Godiamocelo per noi. Che siamo i tifosi. Ribadisco. Più disgustati. Del globo terraneo. Dal 2013. Da quando quell'indegno di Gagliani. Ha distrutto il Milan. Noi oggi. Siamo risorti. Noi oggi. Siamo vivi. Questo derby. Anche più importante. Di quello di Bacca. Niang. E. E. E col palo sbagliato. Dei cardi. Perché ci porta primi in classifica. Ci fa tornare a essere. Milan. Ci fa tornare a essere. Quello che siamo sempre stati. E ci fa finalmente. Rispettare anche dagli altri. Perché adesso le aspettative cambiano. Adesso. Le cose cambiano. Quindi. Oggi. È tornato. In Milan. Non ha ancora vinto niente. Non abbiamo fatto niente. Ma oggi. Siamo tornati. E oggi. Dobbiamo far sentire. Tutto l'amore. Per questi colori. Tutto. Quello che abbiamo sempre voluto. In questi anni. Che non abbiamo mai potuto avere. Quindi festeggiate. Ma non per gli altri. Per voi. Per noi. E in questo periodo difficile. Che stiamo vivendo. Godetevelo. Questo derby. Perché il derby. Che veramente. Ci fa tirare. Un sospiro di sollievo. Ci fa sorridere. In un tempo complicato. Che stiamo vivendo. Quindi. Il calcio. Come veicolo di soddisfazione. Dopo tanta immondizia. Che abbiamo visto. Negli ultimi anni. Quindi. Concludo questo video. Dicendo. Forza Milan. Forza Milan. È Milano. È rossonera. Ciao a tutti.